salve a tutti è tanto tempo che io non uso il registratore per fare un video ma voglio fare un veloce commento a caldo sulla questione del concerto di sfera e basta dalle persone lì che sono morte diciamo che sono sorti un sacco di polemiche per tante ragioni sia perché di per se stesso voglio dire è stata una tragedia no? sono morti dei ragazzi cioè qualche successo si poteva evitare non si poteva evitare si poteva ridimensionare il problema è stato uno scherzo stupido che diventa una tragedia è un discorso e voglio ricordare certi soggetti per esempio che sono permessi di dire sono morti perché sono andati al concerto di un deficiente che è un personaggio molto discutibile il discorso voglio ricordare quei soggetti che spesso ammetto sono fan della musica rock e heavy metal voglio ricordare che oggi è l'8 dicembre ed è l'anniversario di morte di john lennon e di daniel bagdahl entrambi morti per mano di uno che diceva di essere loro fan ma pensate un po' no? il discorso non è che sono morte le persone perché sono andati al concerto di un tipo di musica e se fossero andati a un concerto di musica classica non sarebbe successo se sarebbe successo forse a prescindere cioè i deficienti sono ovunque bisogna ammettere che voglio dire uno dei miei musicisti preferito è morto proprio è sparato da un passo a un suo concerto è morto sul palco quindi manco gli artisti sono sicuro quindi non è che uno è un deficiente allora allora gli fan sono deficienti anche se uno non è un deficiente voglio dire anche se uno è un artista vero artista che poi può anche non piacere voglio dire a me john lennon non ha mai fatto impazzire più di tanto musicalmente parlando a parte qualche canzone dei beatles giusti quelle più sperimentali voglio dire quel album se john pepper qualcosa data la sua lista voglio dire poi il discorso è come devo dire la questione del perché si poteva evitare come non si poteva come si poteva fare in modo che non succedesse il problema è un altro hanno superato il rinvolto il limite della capienza c'è il limite di sicurezza c'è quello che voglio dire fatto per alcune persone ne sono andato il triplo tutto questo per il guadagno allora forse neanche se basta stesso in prima persona forse c'entra qualcosa ma sicuramente i suoi organizzatori i suoi manager non so se lì c'era la responsabilità ma non tanto se baste manco ce l'ha pensato forse forse all'inizio si può dire beh potevi anche voglio dire se avessi saputo una cosa del genere avessi potuto dire scusate non facciamolo chi se ne frega si guadagnò un terzo chi se ne frega il discorso è pur di far guadagnare questa persona e non solo guadagnano anche altre persone non è che sarebbe basti uno che si presenta da sola ai suoi concerti voglio dire vuol dire di guadagnare di più tutto il diciamo il codazzo di persone che del business hanno fatto questa cosa qua questa cosa grave no che si poteva evitare perché potrebbe succedere anche il concerto della parrocchia poi per giusto per dire no va mi stava suonando e chi la resta dell'orator io potrebbe capitare una cosa del genere per assurdo non potrebbe essere un fan potrebbe essere un terrorista potrebbe essere chiunque ma questo è il discorso cosa dell'industria musicale no che immagina vittime anche questo ha immaginato vittime perché se fosse stato un concerto di musica non commerciale dove dico bisogna punterare la qualità dell'artista la libertà di espressione eccetera eccetera dove poche persone ci sarebbero andate forse non sarebbe successo non dico che non sarebbe successo in assoluto ma molto probabilmente sarebbe stato un po' difficile voglio dire mi ricordo quando ho visto Paul Dirbert l'ultima volta era un piccolo locale c'era un bel po' di persone lì dove veramente è un problema però voglio dire se eri schiacciati da una calca sarebbe stato un pochino difficile secondo me sarebbe stato un po' difficile visto a un punto quando ho stato andato a farmi la foto con lui mi senti male uscire e poi sono entrato dopo mi ricordo questa cosa perché tanto non c'erano molte persone poi devo andarci lo stesso diciamo che il problema grosso è ma guardate per fare più soldi ci sono pregati dei rimi di sicurezza questo è il problema non è tanto quello del trapper che parla di droghe ragazzi anche quello si è anche una polemica che diciamo che potrebbe concentrare a nulla ripeto potrebbe succedere pure un concerto della Pausini o come dicevo prima dell'oratorio per dire la sciocchezza ecco giusto questo che voglio dire io dico spesso beh se fossi uno youtuber è un po' seguito da lei ogni 8 dicembre è un ricordo per dai baghdad e john lennon che meritano voglio dire è successa una tragedia di questo tipo voglio dire il discorso non mettiamo in mezzo la questione più di altro del genere più di altro della questione del business che sta dietro che di conseguenza ha avuto questa come devo dire ha permesso che una situazione del genere si verificasse perché un deficiente in un altro contesto forse non avrebbe potuto macinare queste vittime infatti non lo scherzo è un casino ma forse non sarebbe morto nessuno forse non lo so quindi il nostro modo è questo voglio cercare di vedere un pochino non come bianco nero della serie quello è sfere e basta quello non è sfere e basta non sarebbe successo alcun certo di di palarotti no non è questo il punto quindi vorrei ricordare molte delle persone che hanno dato la colpa alla trapper di per sé che io ripeto a me non piace bober niente come genere quindi tutto qua è un video facciamo di ipocris che un po' io la mia opinione è per meno questa che questa cosa qui è stata anche dovuta alla faccenda dei limiti di sicurezza che è vero che c'è stato un deficiente però se fossero state meno persone non sarebbe successo tutto questo problemone spero di essere stato chiaro nel modo di scrivermi ho acceso il direttatore e ho parlato un pochino a vanvera però è più o meno quello che volevo dire anche perchè qualche tempo mi senti odio ma che cazzo ho detto detto questo vi saluto alla prossima grazie